Sono una risorsa fondamentale per le associazioni. Sono i ragazzi dei 18 e 28 anni che scelgono di dedicare un anno della loro vita agli altri con il servizio civile, dando un sostegno a tante realtà di volontariato del territorio che operano in vari ambiti. Ma quest'anno, a causa dei problemi economici, invece di iniziare a gennaio, molti di loro partiranno con le attività a giugno, sei mesi dopo. Pare che partiranno. Questa è sicuramente la buona notizia a fronte comunque di un periodo di grande difficoltà per gli enti e per i ragazzi. Nel senso che il bando che era stato approvato, i progetti che erano stati approvati a settembre dell'anno scorso, sono stati avviati in tutto il territorio nazionale con degli scaglionamenti decisi dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. E quindi i ragazzi che erano stati selezionati a settembre e che avevano avuto notizia che sarebbero partiti a gennaio del 2012, in realtà sono ancora lì che aspettano, molti hanno trovato dell'altro da fare, molti hanno rinunciato a delle opportunità. E quindi pare che partiranno. Alcuni sono partiti a maggio, alcuni forse partiranno a giugno e molti altri dovranno partire nell'autunno, entro fine anno. Questa ragazza dopo la maturità ha chiesto di fare il servizio civile all'Aido Provinciale. Come hai vissuto questi sei mesi di attesa? È stata un'attesa abbastanza difficile perché non si sapeva esattamente se si partiva, sì, no, forse. Questo cosa vuol dire per le associazioni che di solito contavano su questa presenza? Non solo contavano ma erano sicure, gli era stato detto che avrebbero avuto questa possibilità perché il bando era stato finanziato, i progetti erano stati approvati a settembre. E quindi non solo ai ragazzi ma anche alle associazioni avevano progettato e lavorato per fare in modo che le attività dei ragazzi potessero realizzarsi tra gennaio 2012 e dicembre 2012. E quindi questo ha comportato il dover ritarare le attività a fronte di risorse, anche persone, che non ci sono più. Altro problema, ad oggi ancora non è uscito il bando per i giovani che vorranno fare il servizio civile nel 2013. E di fronte ai problemi di finanziamento che rischiano di penalizzare tante attività, il Centro Servizio per il Volontariato lancia un appello agli enti e alle istituzioni locali. Ma come federazione del volontariato della provincia di Verona facciamo un appello a tutte le realtà che possono intervenire in merito al servizio civile per far continuare un'esperienza che si è rivelata positiva, educativa per i giovani e che ha avuto una risposta più che soddisfacente e di gradimento. Per sensibilizzare la realtà del servizio civile partiranno dal Veneto 2.500 cartoline destinate al Premier Monti per un impegno più preciso del Governo.